My Life Powered by Samsung Galaxy S5 con garanzia Samsung d'Italia La città ha bisogno di eroi, Ceres C Il mio video riguardo la legalizzazione delle droghe leggere, marijuana, cannabis insomma ha ricevuto un esito diciamo positivo però un terzo del pubblico ha avuto un'idea diversa dalla mia ovvero non è stata d'accordo con il mio pensiero, la mia opinione a riguardo ho visto una grossa feta di persone che mi hanno risposto che la cannabis non fa male che fa soprattutto bene, che gli effetti sono benefici insomma che consumandolo può giovare dall'uso insomma la gente è convinta, la gente sembra essere convinta di questo che fumarsi una canna ogni tanto fa soltanto del bene insomma Ma no, sono restato i testo di questi qua che cercano di fare un po' di opinionisti della situazione su questo e su quello Le parole durante i video e così facendo magari tendo a perdere un pochino di credibilità ma non per questo credo e sono convinto di avere delle opinioni assolutamente sane e molto condivisibili almeno per chi ha il cervello ancora che funziona Per me è un argomento vecchio Un saluto e ci vediamo alla prossima My Life Powered by Samsung Galaxy S5 con garanzia Samsung Italia La città ha bisogno di eroi Ceres c'è La città ha bisogno di eroi